40 anni di Donkey Kong. In natura sono pochi i gorilla a raggiungere questa età, ma tutti sappiamo che quello Nintendo è uno scimmione eccezionale, che ha dato vita a una vera e propria dinastia. Per questo abbiamo deciso di ripercorrerne la storia in occasione del suo compleanno, cercando di capire se la casa di Kyoto ha davvero in serbo un nuovo gioco per festeggiarlo. Nato in Giappone il 9 luglio 1981 all'interno del cabinato omonimo, Donkey Kong è uno dei tanti figli di Shigeru Miyamoto e del compianto Gunpei Yokoi, uno di quelli che almeno all'inizio non è stato capito da tutti. Lo avevano infatti scambiato per un cattivo, un brutto che rapisce l'Olivia di turno e la porta in cima ai palazzi per emulare il proprio re, King Kong ovviamente. La fanciulla, per chi non lo sapesse, si chiamava Pauline e dopo aver superato il trauma si è data alla politica, ed ora è sindaca di una grande città. Anche Super Mario, o Jumpman se preferite, ha impiegato un po' di tempo a perdonarlo. In Donkey Kong Jr., il baffuto idraulico imprigiona il gorilla in una cella piccola così, e prova a ostacolare in tutti i modi i tentativi di salvataggio portati avanti dal suo giovane figlio. In realtà, se si pensa ai trascorsi del vecchio Donkey, Mario sembrerebbe anche avere le sue buone ragioni a volerlo tenere in cattività. Ma nel 1984 arriva il Game & Watch Donkey Kong Circus. Will Idraulico rivela la sua natura sadica e vendicativa, facendo esibire i due gorilla in un circo dove li maltratta continuamente. In Donkey Kong 3, invece, non sappiamo bene che cosa spinga Donkey nella serra di Stanley the Bugman. In ogni caso, a parte qualche piccola scarammuccia legata ai giocattoli mini Mario apparsi nella serie Mario vs. Donkey Kong, le due icone Nintendo sembrano infine aver raggiunto una tregua, che ha portato alla liberazione di Donkey e al suo trasferimento sull'isola dei Kong. Di Donkey Kong Jr., invece, perdiamo le tracce. Nel 1992 lo vediamo sfidare gli amici di Mario in Super Mario Kart, ma già in Donkey Kong Country nel 1994 è il nipote del primo Donkey Kong a guidare l'avventura, insieme a una vera e propria famiglia di Kong. Nella nuova serie creata da Rare incontriamo infatti Candy e Funky, Diddy e Dixie, Zwanky e Kiddy, del padre del nuovo protagonista, però nessuna traccia. Al Donkey originale, ora accompagnato dalla moglie Eurinkly, ci si riferisce invece con il nome Crankey, che ben rispecchia la sua natura di vecchio un po' scontroso sempre intento a dare consigli all'irrispettoso nipote. Nella trilogia Country per Super Nintendo incontriamo anche dei nuovi nemici, i Kremlings, una razza di bellicosi cocodrilli antropomorfi che hanno intrapreso una guerra senza fine contro i primati. Li derubano delle loro scorte di banane e rapiscono i vari membri della famiglia. Su Nintendo 64, nel 1999, la serie passa al 3D, ma il nuovo millennio fa riscoprire a Donkey la sua passione per la musica, con una serie di giochi musicali dove possiamo suonare i bonghi insieme a lui, e in Jungle Beat possiamo persino utilizzarli come controller per un vero e proprio platform. Diddy nel frattempo si era messo a organizzare corse, con Diddy Kong Racing per Nintendo 64. I Kong hanno avuto fortuna anche su console portatile, con la trilogia Donkey Kong Land per Game Boy e i porting dei Donkey Kong Country su Game Boy Advance. Ovviamente sono apparsi anche nei diversi party game di Super Mario, dai Super Smash Bros ai vari Mario Kart, dai Mario Party ai Mario Tennis. A parte queste apparizioni, però, è da un po' che non abbiamo un nuovo gioco tutto dedicato agli scimmioni Nintendo. Nel 2010 abbiamo avuto su Wii Donkey Kong Country Returns, seguito nel 2014 da Tropical Freeze per Wii U, portato anche su Nintendo Switch nel 2018. Al di là del compleanno, insomma, i tempi sembrano essere maturi per un nuovo capitolo, sul quale da tempo si rincorrono varie voci di corridoio. Sette anni di assenza sono tanti, e pare che Nintendo stia preparando una grande festa a sorpresa. I rumor parlano di un nuovo gioco, di una sezione del parco Super Nintendo World di cui sono già emersi alcuni indizi, di tanto merchandise a tema e persino di una serie o di un film di animazione. D'altronde non sarebbe la prima volta che Donkey Kong finisce in tv, anche se il precedente non era stato troppo positivo. La vecchia serie animata è comunque ricordata con affetto dai fan, per nostalgia o forse premium. Sul gioco, invece, possiamo formulare alcune ipotesi. Escludendo se ne stia occupando Retro Studios, al momento alle prese con Metroid Prime 4, difficile apparterà al filone country. Più probabile, invece, è che avremo qualcosa di completamente diverso, che magari sarà realizzato niente meno che da Epidiotto, il prestigioso e talentuoso team di Tokyo. Le tempistiche tornerebbero bene, visto che la squadra pubblica un nuovo gioco ogni tre anni circa. Se si esclude Bowser Fury, l'ultimo risale a fine 2017 e risponde al titolo di Super Mario Odyssey. In più, esiste un precedente dell'epoca GameCube ed è stato il primo gioco ufficiale del team. Stiamo parlando del già citato Donkey Kong Jungle Beat, diretto da Yoshiaki Koizumi, oggi responsabile software dell'intera divisione idokiana. Insomma, le premesse per un compleanno coi fiocchi ci sono tutte. E voi, cosa sperate per il buon Donkey Kong? Scrivete i vostri auguri nei commenti qua sotto e se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per regalargli qualche banana. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuna novità sui festeggiamenti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie per aver guardato fino alla fine. Ciao!